I tempi che viviamo chiedono sfide da raccogliere e questo è il senso della scelta di Aistrentino che ha deciso di ospitare il congresso nazionale 2016 dell'Associazione Italiana Sommelier. Il cinquantesimo congresso dell'associazione, quindi comunque anche un numero che lo renderà particolarmente importante. Sicuramente dopo le grandi città, i grandi numeri, le grandi presenze anche che hanno caratterizzato gli ultimi congressi torneremo anche ad una dimensione un po' più contenuta, rimaremo nella città di Trento, cercheremo di puntare di più ai contenuti. Dopo il tour delle grandi capitali italiane da Roma a Firenze, da Torino a Milano, la carovana dei Tastvan torna in un'importante provincia italiana, un territorio ricco di enologia di qualità e non solo. Il tema che caratterizzerà questo congresso è un tema che interessa in buona parte il nostro territorio, il rispetto. dell'ambiente e del territorio puntando soprattutto a capire a che punto è e quali possono essere le prospettive dell'ambito biodinamico nella coltivazione della vite, quindi con interventi anche importanti dall'estero. Un territorio che si presta diverse chiavi di lettura, dalla storia conciliare della Trento-Papalina alla terra dell'irredentismo, dall'identità della cultura dell'alpeggio ai circuiti museali internazionali e poi le piacevolezze che il calendario del congresso dell'Ais consentirà che arriverà in città. Saremo poi in un periodo particolare dove inizieranno anche i mercatini di Natale, quindi per chi verrà a trovarci eventualmente o accompagnatori ci sarà anche questa ulteriore possibilità passeggiando per il centro storico di questa città e ammirando nei palazzi dell'epoca conciliare, quindi di questa storicità particolare, passeggiando anche sotto le mura del castello del Buon Consiglio con dei richiami sia rinascimentali che all'irredentismo. Altro grande successo per tutto il sistema trentino è il Trento-Doc, capostipite del metodo classico in Italia. Infatti le bollicine di montagna da quest'anno saranno sponsor del concorso Miglior Sommelier d'Italia, una delle più importanti iniziative del calendario dell'Ais. Il Trento-Doc, bollicine di montagna, ha un territorio che ha una grandissima storia visto che già nei primi del Novecento è iniziata questa produzione e quindi è con orgoglio che faccio parte di questa associazione in un momento in cui finalmente il Trento-Doc riesce ad essere a fianco dell'associazione sostenendo questo prestigioso concorso. Non preoccupatevi di sbagliare brindisi in ladino, l'importante è che il contenuto sia quello giusto con i grandi vini di montagna. Inizia la scalata verso Trento-2016, la cordata è quella dei Sommelier. Non è stata dimenticata, è stata apprezzata.